Comincerà questo sabato la stagione della Becquery che ieri con una festa in Largo a Guistola ha presentato la squadra. Iniziamo la stagione sportiva, quindi abbiamo radunato tutto quello che è il nostro mondo, dalla prima squadra a soprattutto, la cosa più importante, a tutti i nostri ragazzi delle giovanili, dai bambini più piccoli di 6 anni fino all'under 20. Abbiamo allestito degli stand gastronomici per proseguire la festa dopo la presentazione e soprattutto cerchiamo di dare un nostro contributo per quello che è successo nella nostra comunità. Infatti abbiamo qui con noi, oltre al sindaco Dose di Piacenza, abbiamo anche il sindaco di Ferriere e il sindaco di Farini perché tutto quello che andremo a ricavare lo andremo a donare alle nostre comunità, sia per questa giornata che in occasione della prima parte di campionato che inizia questo sabato alle 21 qui al Palasport. Con chi debutterete? Debutiamo con Monsummano. Presenti anche gli atleti del basket in carrozzina. È nato tutto dall'anno scorso, questo gemellaggio grazie a Walter Bulla che è il mio sponsor di qualche dia, ma per noi è un piacere, proprio quando si parla di basket, quello che ci aggrega proprio è il basket, quindi siamo felici. Quando comincia la vostra stagione? La vostra stagione inizia il 22 di novembre con la prima di campionato e giochiamo in casa con Giulia Nova Marche. Grazie. 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 Grazie.